Benvenuti da Emiles, da noi e l'una Ragazzi buongiorno, oggi voglio portare Valeria a Milano e le voglio fare un regalo molto particolare Secondo voi cosa sarà? Andiamo, scopriamo Valeria, sei pronta? Soltanto la borsa e arrivo Dai, fai presto Chissà, chissà Giornata alquanto piacevole Vale, è bellissimo questo negozio Andiamo Andiamo Andiamo, dai Guarda qui com'è bello Tutti pupazzi Tutti i bei pupazzi Belli proprio Ma che bello l'ingresso eh Quanti pupazzi della Disney Stitch Ecco lo Stitch Stitch Guarda questo pupazzo, quanto è bello Pluto Il famoso Pluto Questo come si chiama? Questo è Stitch Ah, sempre Stitch Belli Quelli mi sembra che fanno parte di Star Wars Siamo quasi arrivati Ti voglio far vedere una cosa Che cosa? Ci stiamo avvicinando Valeria ancora non ha capito cosa Dobbiamo fare Siamo quasi arrivati Vale, puoi intuire già qualcosa da lì? Puoi intuire già qualcosa? Andiamo a vedere Andiamo a vedere Quello classico Teddy Questo si deve riempire Così stanotte dormi con il pupazzo Come funziona? Come si cebbero Anche i telecomputori Sì Bello Guarda come si riempio Guarda Faccio? Faccio? Sì Scegliere il tuo cuore Dobbiamo scegliere un cuore? Qui Rosso Rosso? Esprimete un bel desiderio Esprimete un bel desiderio Esprimi un desiderio Quale sarà il tuo desiderio, Vale? Non lo posso dire Non ti dice Vai metti da dentro O levate ad aggiungere il profumo? Sì, va bene Aggiungiamo anche il profumo Te le faccio sentire Questo è frago Ah Dovete pensare infatti a un nome da darmi Ah, ok Quello è caramelle E questo è torta di compleanno Ah Mi piace fragola? Beh, adesso lo stiamo indo Quando? Ah, ok Pensare al nome E poi se volete vestirlo Vestiamolo, dai Ok, se volete andate a sceglierlo Lì? Ah, ok Questo qua è bellino, Vale Calciature Quanto non Allora, Bubu? Beh, è certo Bellino, no? Ah, ci sono pure le scarpette Sono forte Questo qua con la camicetta è bellino C'è pure il cappotto Guarda se glielo vuoi mettere Tu si veste da donna? No Allora, chiamala donna Puoi chiamare Gabriella? Alleria, allora Hai scelto? Scelgo questo Hai scelto questa? Sì Va bene? Bellissimo Lo sacchiotto credo di chiamarlo Luna Quindi chiamato Luna Con tanto affetto da Davide A partire a Valeria Non è compreso Luna Bellino Sì, sì Ok Vediamo come veste Salone Con il buco per la coda Il cuore che batte? Sì Come funziona? Il cuore che batte E farvelo mettere Paghiamo Paghiamo ragazzi Il certificato di nascita Di Luna Danno anche quindi Il suo certificato di nascita Adesso andiamo a ritirare Il nostro pupazzo Andiamo Con Luna Ma sei contenta allora? Che bella sorpresa che hai fatto Il carosello L'abbiamo messo anche a Luna Sopra Alla giostra Ecco Questo è tutto il negozio A due piani Ciao amici Poing Valeria che odora Luna Profuma di fragola Profuma di fragola E di nuovo Ragazzi abbiamo pagato 49,99 Facciamo vedere L'orsacchiotto L'abbiamo pagato 49,99 L'orsacchiotto Nudo Quindi senza il completino Senza il completino Strawberry Strawberry Praticamente sarebbe il profumo Che abbiamo messo attorno Io ho scelto Fragola Ma c'erano anche altri profumi Esatto Potete scegliere Il profumo costa 6,99 Esatto Mentre il pigiama Sta Il pigiamino rainbow Il pigiamino rainbow 19,99 19,99 Il pantaloncino Ok Ma potete scegliere anche di non vestirlo Esatto E pagare anche di meno Se volete MLS MLS si trova alle spalle Del duomo Che si trova lì E si trova in via Vittoria Emanuele II Eccolo qui MLS Che si trova in via Vittoria Emanuele II